vi parla dalla redazione di investors magazine italia una grande serata dedicata alla cultura finanziaria come nello stile di investors e di traders magazine che questa sera si onorano di avere nella piattaforma ospite un grande analista protagonista della cultura finanziaria italiana analista che abbiamo ospitato più volte in passato in molti eventi anche fisici nella sua città in modo particolare in torino alla università sa piuttosto che presso la serie di diretta o comunque in occasione in cui c'erano grandi eventi che ancora il ci veniva consentito di farli perché non c'era ancora il covide ovviamente ora abbiamo il covide e siamo su piattaforma digitale siamo felicemente su piattaforma digitale comunque piattaforma digitale che il nostro pubblico che io ringrazio per il continuo sostegno è ormai abituato abituatissimo a frequentare anche da molto prima che fossimo costretto a farla da quando non ci sono più gli eventi fisici comunque gli eventi torneranno e il nostro ospite di questa sera sarà ospite sicuramente anche in uno di questi in futuro quella che la persona di cui sto parlando è giovanni cuniberti giovanni ti vedo già collegato e ti ringrazio dalla tua consueta puntualità ciao giovanni grazie di essere fra noi grazie di aver grazie di aver aderito al nostro invito perché so che hai preparato del materiale che c'è certamente il nostro pubblico non vede l'ora di poter visionare insieme con te ed è la ragione per cui non ti sottraggo ulteriormente tempo e ringraziandoti ancora una volta per la puntualità e la grande disponibilità a diffondere insieme con noi sui nostri canali cultura finanziaria ti passo molto volentieri il controllo del video e sarò in prima fila ad ascoltarti insieme con il pubblico per condividere con te la tua presentazione a te quindi il controllo del video grazie perfetto grazie di essere fra noi giovanni è senior portfolio manager e responsabile della consulenza fiolli di gamma capital è una prestigiosa casa di investimento sito in torino ce ne parlerà di questa esperienza e lui stesso anche la parola giovanni grazie 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 maurizio per l'invito grazie a tutti voi che siete numerosi qui ad ascoltarmi e chi mi conosce sa quale sia la mia storia di consulente finanziario indipendente ma ve la racconto brevemente io inizio a lavorare come trader istituzionale a banca intermobiliare sui mercati giapponesi quindi lavoravo di notte dormivo la mattina e studiavo a pomeriggio da lì ho fatto un percorso come una lista finanziario fino a quando nel 2009 ho aperto uno studio di consulente finanziario indipendente che crescendo nel tempo nel 2017 si è unito a gamma capital markets che è questa società sgr società di gestione risparmio internazionale che ha sede a torino milano e ha diverse filiali in giro per l'italia a bologna genova e che si occupa sia delle linee di gestione sia di quello di cui io sono responsabile cioè la consulenza finanziaria indipendente che è un po' quello che è il mio credo cioè riuscire a difendere i patrimoni dei clienti in modo indipendente senza conflitto di interesse e soprattutto senza toccare i suoi dei clienti ma facendolo dall'esterno oggi voglio parlarvi di un argomento particolarmente complesso lungo che va a unire il progetto di cultura finanziaria che faccio nel blog patrimonio di famiglia con tutta l'attività lavorativa all'interno di gamma capital markets che è la difesa del patrimonio di famiglia attraverso la diversificazione strategica per presto molte volte ci troviamo a sentire parlare di diversificazione e questa è attuata con tanti strumenti dove non sempre si va effettivamente a vedere cosa c'è dentro se sono fonte di investimento o a volte sono fatti per area geografica per avere di tutto un po' ma alla fine la diversificazione poi non porta nessun tipo di valore aggiunto prima di arrivare a questo volevo fare un'introduzione sullo scenario economico perché ci troviamo davanti a una situazione nuova è un momento storico particolarmente delicato lo sapete tutti generato principalmente da lockdown dove i mercati azionari ma non solo perché la volatilità l'abbiamo vista anche sul mercato obbligazionario l'abbiamo vista in alcune fasi anche sull'oro si è trovata di fronte a un andamento questo è una discesa record soprattutto per il tempo che ci ha messo i mercati a scendere dove qui vi rappresento quelle che sono gli andamenti delle tre aree geografiche che seguo di più quindi con la linea rossa vedete il nasdaq che da inizio anno ha fatto una discesa ma anche un successivo recupero straordinario andando addirittura in campo positivo l'SP 500 che sta perdendo un 9% da inizio anno anche qui il drawdown è stato particolarmente significativo e poi la Germania e l'Italia dove noi ovviamente siamo fanalini di coda quasi come sempre con un drawdown intorno quindi una massima perdita dai massimi di febbraio dei circa 40% e uno successivo recupero che è stato inferiore rispetto agli altri mercati quindi uno scenario particolarmente complesso perché l'economia è stata ferma per più di due mesi il mercato azionario dà dei segnali di recupero perché li dà perché evidentemente si aspetta che le dosi massicce di denaro messe dentro le banche centrali possono aiutare a superare questo momento di difficoltà però ci sono tre aspetti che oggi vorrei analizzare il primo riguarda i cambiamenti sociali che stiamo affrontando il secondo tutti i nuovi scenari economici che verranno dopo questo effettivo momento di lockdown e poi il terzo punto quello più importante che cosa noi stiamo mettendo in atto per difendere il patrimonio di famiglia cioè quella che è la diversificazione strategica per cercare prima di tutto di non prenderle mettiamola così cioè di ridurre il drawdown e poi nelle fasi positive di cavalcare l'andamento e il rialzo dei mercati cambiamenti sociali perché perché lo sapete benissimo siamo sempre più connessi c'è una la possibilità di imparare cultura finanziaria soprattutto in rete con servizi a volte anche di alta qualità le informazioni passano da un social all'altro in maniera molto rapida e veloce però in tutto questo mare magnum di informazione spesso ci troviamo a che fare con una serie di fake news che ci portano a volte sulla strada non corretta dal punto di vista interpretativo ma soprattutto ad esempio non hanno permesso di evitare il contagio a livello del covide o covide che dir si voglia perché evidentemente le informazioni che arrivavano dalla cina o non erano corrette sono state sottovalutate e questo virus che era presente già in europa nei mesi di dicembre si è diffuso causando poi i problemi su quelle che possono essere le motivazioni di questa diffusione del virus in rete ma anche a livello accademico si trovano versioni diverse c'è chi ha versioni più complottiste quindi figlie di una guerra stati uniti cina chi invece meno e parla di cigno nero derivante effettivamente da una questione legata al virus rimane il fatto che questi cambiamenti hanno portato a quello che le banche centrali hanno e vivono come terrore cioè una recessione sappiamo negli anni passati che sia la fede che la bce hanno fatto di tutto per cercare di evitare la recessione la fede c'è riuscita molto meglio andando in un primo momento sta parmonete poi ritirandola dal mercato la bce un po meno perché l'attività di quantitative easing non si è trasferita all'economia reale in maniera molto corretta però siamo in un momento in cui la recessione effettivamente ha portato tutta una serie di problemi però è il momento di affrontare questa situazione di non farsi prendere dal panico che è sempre l'approccio sbagliato sia nella gestione dei propri risparmi sia nella vita normale siamo di fronti a un new normal cioè una situazione in cui le banche centrali inondano di liquidità al mercato creano più debito qua si potrebbe aprire un discorso molto ampio se effettivamente questo debito può essere corretto metterlo nel mercato così però allo stato attuale nel momento in cui tutta una serie di attività sono ferme per evitare tensione necessario è necessario e fondamentale aiutare le persone aiutare le aziende quindi siamo di fronte a un cambiamento economico ma anche un cambiamento di scenario cioè andiamo verso una situazione che ci porterà a un nazionalismo che mina la fiducia internazionale ed europea oppure andiamo verso un risveglio comunitario e la consapevolezza che questi problemi non si risolvono adesso questa è effettivamente la grossa sfida che ci troviamo ad affrontare perché perché da un lato abbiamo questa guerra stati uniti cina che è una guerra quasi una guerra fredda messa in moto dagli stati uniti per difendere le proprietà intellettuali che la cina poco per volta stava erodendo dall'altro lato c'è l'europa che figlia poi di questa brexit quindi questa situazione nuova che si trova ad affrontare un periodo di recessione con idee diverse spunti economici diversi e si trova in mezzo a queste due superpotenze e rischia di essere vittime terra con di conquista di stati uniti e cina quindi siamo in una situazione è oggettivamente difficile da interpretare ma nello stesso tempo questa situazione come tutte le situazioni di crisi può essere una grossa opportunità una grossa opportunità sia in termini di investimento sia in pur sia per quello che riguarda la vita di tutti i giorni per cercare di vivere in modo diverso di apprezzare di più alcuni aspetti della vita normale e trasformare questo in qualcosa che aiuti anche l'economia reale è per questo che dopo parleremo anche di cultura finanziaria le nuove incertezze sono derivate da che cosa ovviamente dalla presenza del covi 19 dal dire di contagi che ha provocato in tutto il mondo non solo in europa ma stati uniti america latina africa dove i numeri sono un po' ambigui poi ci sono tutta una serie di decisioni legate alla politica economica e sanitaria abbiamo parlato anche nel canale di patrimoni di famiglia di che cosa sono i recovery funds a livello europeo se questi saranno a fondo perduto oppure no se ci sarà effettivamente un accordo fra qualche giorno che deve essere vi ricordo fatto all'unanimità quindi ci sono una serie di difficoltà a livello europeo che invece negli stati uniti sono state superate in maniera molto più agile e tutto questo poi un impatto sull'economia reale per cui abbiamo visto anche nel mercato azionario come l'america che un'economia che va in crisi magari più velocemente ma si ripende anche in maniera molto più rapida abbia recuperato a livello azionario molto di più rispetto a quelle europee e c'è un aspetto che però in molti hanno sottovalutato è vero che c'è stato il lockdown è vero che c'è stato un periodo di panico sui mercati ma questo crollo è stato generato anche da un dirompente effetto leva purtroppo i giornali ne hanno parlato poco sicuramente pochissimo le testate normali un po di più i giornali finanziari però l'effetto leva si è trasformato in un vero boomerang per tutta una serie di privati che avevano i lendi per andare a investire di più ma soprattutto per tutta una serie di fondi di investimento perché fino a un po di tempo fa ma purtroppo non abbiamo imparato nulla da quella che è stata la crisi del 2007 2008 2009 l'effetto leva senza la gestione del rischio porta a esattamente il contrario rispetto a quello che indica questa questa immagine era un'immagine presa da un broker che ci invitava a usare la leva finanziaria per arrivare ai termini del successo e questo purtroppo non è stato così perché nel momento in cui molti fondi di investimento hanno visto i riscatti e un'impennata della volatilità non hanno saputo gestire il rischio e sul mercato ci sono state situazioni come questa questo è un fondo obbligazionario retail è molto famoso che ha vinto diversi premi perché nel 2015 2016 2017 18 19 ha sempre dato performance positive con una costante di salita quasi magica e una bravura che ogni tanto metteva dei dubbi per cui nell'ultimo nel mese tra metà febbraio e metà marzo ha perso il 54 per cento nel giro di pochissimi giorni arrivando se non sbaglio a toccare un minimo anche più ampio questo perché perché evidentemente nessuno era mai andato almeno in pochi a vedere che cosa c'era dentro questo fondo aveva 100 in patrimonio investiva per 400 aveva degli asset in liquidi che faceva difficoltà a vendere nel caso in cui ci fosse stata turbolenza e ha creato dei dissesti finanziari a molte persone che ignare avevano in portafoglio un fondo obbligazionario pensando fosse effettivamente un fondo obbligazionario ma che in realtà era un fondo a leva che lavorava sulle valute che creava poteva creare una serie di problemi che poi si sono verificati e non immaginate quanti clienti in questa fare sono venuti da me come clienti nuovi per farmi analizzare la situazione e avevano anche il 50 per cento del loro patrimonio investito in questo fondo e hanno subito delle discese dei drawdown veramente importanti. Quindi qual è l'obiettivo di oggi? L'obiettivo è una riflessione su una domanda difficile difficilissima che in molti ci chiediamo che molti clienti mi chiedono amici sempre è possibile proteggere i propri risparmi che sono magari frutto di una vita che sono frutto di tanta fatica magari di un'eredità magari della propria attività lavorativa e la risposta è sì se si aumenta la propria cultura finanziaria si prende per mano i propri risparmi quali sono le soluzioni? Oggi ve ne propongo tre. Il primo riguarda la diversificazione strategica il secondo riguarda l'andare a trovare quelli che sono i veri strumenti che proteggono il portafoglio perché sentite in giro parlare di tante cose attività short strategie con nozioni ma se uno ha un portafoglio deve identificare quei due o tre strumenti per cui sa che quando inizia una turbolenza deve andare a investire su quelli. Quanto? Beh dipende dal proprio patrimonio dipende dal profilo di rischio ovviamente stiamo parlando di una parte del patrimonio c'è sempre la liquidità che aiuta però quali sono gli effettivi strumenti che aiutano? E poi andremo a parlare di pianificazione finanziaria e attenzione ai costi occulti perché vi farò vedere un esempio di un cliente che è arrivato da me pochi giorni fa per cui mi ha detto che lui in banca non pagava niente che il suo portafoglio non era rischioso perché non aveva azionario e poi vi farò vedere quello che è venuto fuori dall'analisi così potete toccare con mano effettivamente qual era la sua percezione nel rispetto alla realtà dei fatti. Partiamo dal primo punto ovviamente ci sono domande e curiosità scrivetemi pure perché voglio poco per volta soprattutto alla fine che diventi un po' interattivo questo dibattito quindi se avete domande e curiosità non fatevi problemi. Diversificazione strategica è una cosa in cui credo tantissimo è frutto di più di dieci anni di studi ed è realizzata attraverso il metodo dei box operativi cioè io mi trovo sempre quasi sempre ad avere a che fare con noi clienti che in portafoglio magari hanno uno spezzatino di titoli arrivano magari averne anche 100 perché vogliono essere diversificati e la troppa diversificazione fa male perché alla fine non riuscirà mai a battere l'indice di riferimento come dall'altro lato la poca diversificazione fa male perché aumenta il rischio. Quindi qual è la giusta soluzione? La giusta soluzione è secondo i nostri studi che ho fatto insieme a tutto il mio meraviglioso ufficio studi che si occupano sia dell'analisi dei singoli titoli sia dell'analisi matematico quantitative attraverso l'ETF e quella di andare a creare strategie diverse che se inserite all'interno del portafoglio è come se io avessi tanti piccoli gestori diversi supervisionati da un gestore padre che permette di avere una vera e propria diversificazione e fare in modo che queste strategie non perdano tutte insieme contemporaneamente che è la cosa più importante se poi guadagnano tutte insieme ma meglio così non è quello il problema l'importante è che non perdano tutte insieme. Come abbiamo fatto a creare questo? Abbiamo fatto unendo approcci quantitativi ad approcci discrezionali. Gli approcci quantitativi quindi derivano da che cosa? Da un algoritmo, da una macchina, in questo caso noi usiamo Python che è uno degli strumenti migliori per programmare l'asset allocation che ha l'obiettivo di togliere la componente psicologica quindi guarda i dati, guarda i numeri, non sa se Trump ha accusato la Cina di qualcosa, non sa che c'è il covid, non sa che c'è recessione economica, guarda i numeri. Questo approccio quantitativo toglie tutta una serie di possibili errori dati dall'aspetto psicologico che è il motivo principale di errore per un analista. E poi ci sono gli approcci discrezionali. Per approcci discrezionali significa prima di tutto andare a analizzare quelle aziende sia in ambito azionario che obbligazionario che hanno un vantaggio competitivo, cioè che hanno un prodotto che oggi sul mercato ha qualcosa in più rispetto agli altri e che potenzialmente sono presenti oggi sul mercato ma ci saranno anche fra 5 e 10 anni. Questo è un lavoro molto difficile che unisce un'analisi macroeconomica fino all'analisi di bilancio che poi viene splittato in singoli titoli, singole obbligazioni, singoli etf e singoli certificati per avere poi una diversificazione anche di volatilità all'interno degli strumenti. L'unione di questi due aspetti hanno fatto sì in questi anni magari di guadagnare un po' meno rispetto a una strategia azionaria pura, ma sicuramente non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è cercare di ridurre il drawdown e le perdite che è un po' il vero centro di ogni tipo di nostro approccio. Parliamo dell'approccio quantitativo. Anche noi all'inizio che cosa facevamo? Studiavamo, inventavamo una formula, la testevamo nel passato, questa formula veniva poi modificata, facevamo tutta una serie di cose complicate che si chiamavano backtest, forwardtest, insomma cose che generavano un lavoro immenso con risultati altalenanti, perché ogni tanto questi modelli andavano e continuavano, ogni tanto rallentavano il loro andamento. Negli ultimi anni abbiamo cambiato approccio, siamo andati a studiare quei modelli creati dai guru americani, grazie a 24 papers, quindi documenti che sono riusciti a recuperare anche a livello accademico-universitario. Di questi 24 papers abbiamo selezionato sei strategie che poi abbiamo accorpato tre nel modello meta-protective e tre nel modello meta-momentum, quindi non sono strategie nate oggi, sono strategie nate fra il 2000 e il 2004 che hanno già superato diverse crisi. Queste strategie sono state unite per dare poi dei pesi corretti ai vari approcci di mercato, quindi non abbiamo un backtest come si fa solitamente in una strategia, ma abbiamo dei risultati reali e andiamo un po' a vederli questi risultati reali. Guardate questa strategia, la meta-protective, questa strategia è fatta con un massimo di 30% di azionario e un 70% di obbligazionario, fatta in dollari, quindi stiamo parlando di mercato americano, quindi c'è il rischio cambio che poi andiamo a coprire in maniera discrezionale. La linea arancione è quella della strategia, la linea nera è quella del benchmark fatto da un 60% di azionario e un 40% di obbligazionario, quindi decisamente più rischioso rispetto alla nostra strategia. Qual è l'aspetto più importante? Non tanto la pendenza della curva perché, come dicono i miei colleghi, è importante da analizzare, ma il dato che guardo io è il drawdown. Che cos'è il drawdown? Lo vedete nella terza colonnina a sinistra. È la massima perdita che il modello ha realizzato in una fascia temporale, in questo caso di 16 mesi, è stata di meno 7.2. Se andiamo a paragonarla al benchmark, il benchmark ha fatto come massimo drawdown meno 29.5, quindi il primo tassello che io guardo è vedere quanto la strategia perde e capire se questa perdita è compatibile con il cliente, compatibile col suo profilo di rischio, compatibile con il mio perché tutte le strategie che faccio sui clienti le faccio anche sui miei soldi. Quindi non vado a vedere che la strategia guadagna al 9.2 medio all'anno, ma vado a vedere qual è la massima perdita potenziale. Poi ci sono tutta un'altra serie di dati molto interessanti da andare a analizzare, ma se poi andiamo nel dettaglio di quelle che sono le performance realizzate, vi ricordo che dal 2004 in poi sono performance reali, nell'ultima colonna avete i risultati che vanno a sommare queste perdite o questi utili. Quindi che cosa notiamo? Notiamo che in anni difficili come il 2008-2009, il modello nel 2008 ha fatto più 8.2, nel 2009 più 3.30. Se andiamo a vedere anni difficilissimi come il 2018, che penso che sia stato uno degli anni più difficili per l'analisi discrezionale, molto più del 2020, il modello ha fatto praticamente pari, più 1%, ha chiuso solo un anno negativo che è stato il 2015 con meno 1,9, ma soprattutto da inizio anno sta facendo un più 2,90, che è un risultato straordinario se pensate a quello che è successo sui mercati finanziari. Se vogliamo invece avere un approccio più aggressivo abbiamo il metamomentum, il metamomentum ha una potenzialità massima di arrivare al 50% di azionario, ma è una strategia ovviamente che genera un maggior drawdown, un maggior rischio, perché abbiamo una massima perdita potenziale dell'8.9, quindi il 9% fatta a febbraio del 2009, con un ritorno annuale del 12.4, quindi è già una strategia oggettivamente per coloro che possono supportare un rischio maggiore, perché da inizio anno questa strategia sta facendo meno 1, ha fatto un gennaio e febbraio particolarmente difficile con meno 2.2 o meno 4.2, che poi ha prontamente recuperato tra marzo e aprile. La cosa straordinaria di questo modello, pur essendo più rischioso, che non ha mai chiuso un anno negativo, quindi vi ricordate il 2005-2015 che nell'altra strategia era negativa e in questa strategia è leggermente positiva e anche il 2018 l'ha chiuso con un bel più 5.1. Quindi sono due approcci simili nella loro rotazione che è mensile, fatta attraverso degli ETF, quindi che cosa sono? Sono dei fondi quotati in borsa che vanno a replicare i principali indici azionari e obbligazionari americani, che mi permettono però di diversificare dall'approccio discrezionale un approccio generato da una macchina che toglie tutta la componente psicologica. Questo però non è sufficiente per difendere i nostri patrimoni, perché io non metterei mai il 100% dei miei soldi su questa strategia e andremo a scoprire dopo il perché. Che cosa vado a fare? Vado a cercare di difendere comunque il mio patrimonio da quelli che ritengo possano essere i rischi maggiori in questo Stato, in questo momento. Prima di tutto il rischio insolvenza perché ci troviamo, abbiamo visto, ci sono i rumors di fallimento di Renault, negli Stati Uniti è fallita Aersa, quindi ci saranno delle aziende che andranno in difficoltà. C'è un grosso rischio patrimoniale, sappiamo bene che il prossimo anno il rapporto debito pubblico PIL andrà alle stelle, quindi il nostro debito pubblico salirà tantissimo. Il PIL, se va bene, faremo un meno 7 e meno 8, quindi andremo fuori da tutti i parametri dell'Unione Europea e lì sarà interessante capire nel 2021 come l'Unione Europea vorrà affrontare questo problema e quali saranno le cose che chiederanno al nostro governo, quindi esiste un rischio patrimoniale. Come sarà fatto è difficile, potrebbe essere un aumento dei vogli, potrebbe essere un prelevo forzoso, potrebbe essere un aumento delle tasse sulla prima e sulla seconda casa, possono inventarne quante ne vogliono, però sappiamo benissimo che il modo migliore per distruggere l'economia è o aumentare le tasse o fare delle patrimoniali, quindi questo sicuramente va un po' in controtendente al rispetto al periodo di difficoltà. E poi per la prima volta, secondo me, dopo tanti anni abbiamo un serio rischio inflazione, soprattutto negli Stati Uniti, perché non so se avete presente quanti sono i triliardi di dollari che stanno mettendo in campo per aiutare le aziende e i privati la cui disoccupazione aumenta tantissimo, cosa che l'Europa purtroppo non sta facendo, sta facendo molto in ritardo. Quindi quali sono gli strumenti che possono andare a difendere il mio patrimonio in fasi particolarmente rischiose? O meglio, quali sono gli strumenti che nel passato l'hanno difeso? Prima di tutto parliamo del mercato obbligazionario, che è il mercato più vicino a noi. E' stato un periodo particolarmente volatil. In questo grafico che cosa ho messo? Il paragone A. L'obbligazionario americano, sono ITF, ha più di 20 anni, quindi quello che è l'obbligazionario a 30 anni, che da inizio anno sta facendo un più 22 e 20%. Poi il treasury americano a 10 anni, la linea azzurrina che sta facendo un più 10,58. Poi abbiamo il Bund tedesco in rosso che sta facendo più 2,35 da inizio anno e poi abbiamo il nostro BTP che dopo aver fatto un drawdown superiore al 10% è riuscito a recuperare, allo stato attuale sta facendo un meno 1,50 grazie anche allo scudo dell'ABC e l'aumento del quantitativo. Quindi cosa ci dice questo grafico? Che uno degli strumenti migliori per difendere il nostro patrimonio nei momenti di crisi è l'obbligazionario americano. E' vero che c'è rischio cambio, ma se vi rispondete la domanda qual è l'unica cosa che difficilmente fallirà al mondo, secondo me sono lo Stato americano e alcune aziende sistemiche americane. A questo potrebbe essere il caso di unire i TIPS perché i TIPS sono le obbligazioni statali americane legate all'inflazione, quindi se l'economia dovesse riprendersi e magari grazie all'aiuto si riprenderà prima di quello che immaginiamo grazie agli aiuti di Stati americani potrebbe anche essere che l'enorme liquidità presente sui mercati potrà portare a un aumento serio dell'inflazione. Quindi questo è il primo strumento da avere in portafoglio nei momenti particolarmente delicati o incerti. Quanto metterne lì bisogna vedere ovviamente ognuno dalla propria propensione al rischio e dalla propria pianificazione finanziaria. Un altro strumento probabilmente più comune e più conosciuto a tutti è quello ovviamente dell'oro. Ma vi siete mai chiesti il perché è importante avere oro in portafoglio? Ho cercato di darvi delle risposte. Perché? Perché in alcuni periodi soprattutto in quelli particolarmente negativi l'oro ha sempre sovraperformato l'andamento del mercato azionale. Quindi è vero che ci sono stati dei periodi in cui l'oro scendeva, il mercato saliva, scendeva al mercato e scendeva anche l'oro, ma durante le grosse crisi l'oro ha sempre fatto, ha sempre dato la sua funzione di copertura e di protezione. Poi soprattutto a seconda degli eventi che succedono sui mercati molti sia fondi di investimento sia privati vanno a investire sull'oro in termini di copertura del portafoglio e questo aumenta l'afflusso di denaro sul mercato che è, vedremo dopo, una risorsa scarsa e poi perché l'oro come una serie di materie prime protegge dall'inflazione perché mediamente quando c'è l'inflazione anche l'oro sale di prezzo. Quindi tre buoni motivi, uno magari un po' più tecnico, l'altro un po' legato all'economia reale per cui tenere l'oro importante in portafoglio, ma secondo me il motivo più importante è questo. L'oro sta diventando una vera e propria risorsa scarsa. Che cosa significa? Che nel 2018 e nel 2019 non è stato trovato nuovo oro da mettere in produzione. Per la prima volta negli ultimi due anni la ricerca dell'oro nei posti dove era già cercato prima non ha portato risultati. Questo significa che di oro non ce n'è più? No, probabilmente nei fondali dell'oceano ce n'è, ma allo stato attuale il costo di andare a prendere questo oro nei fondali non è sufficiente per riuscire a garantire poi una successiva vendita. Quindi l'oro sta diventando una risorsa scarsa. Se pensate che le statistiche dicono che l'oro si può racchiudere all'interno di un parallelepipedo che ha come dimensione un campo da tennis. Immaginate come sia poco in maniera pratica e visiva l'oro presente nel mondo. Quindi come tutte le risorse scarse, essendo più considerato un bene rifugio ed essendo in più considerato uno strumento che nel lungo periodo dà tutta una serie di protezione e questo è il motivo per cui avere sempre l'oro in portafoglia. Comprarlo adesso sui massimi magari non tutto, però fare un piano di accumulo per cui io vado a dedicare una percentuale del mio patrimonio all'oro secondo me è una scelta fondamentale. Se poi riesco ad aggiungerci anche un timing d'ingresso è sicuramente la soluzione migliore. Quindi abbiamo parlato di treasury, quindi obbligazionario americano, abbiamo parlato di oro, adesso andiamo a vedere il terzo tassello. Il terzo tassello è cercare quei settori che possono avere un vantaggio competitivo dato dal cambio degli usi dei costumi, che è la cosa probabilmente più complessa. Vi faccio una domanda e poi mi do anche la risposta, magari poi mi dite la vostra dopo. Qual è il motivo per cui secondo voi un'azienda come Google nei prossimi anni non deve mantenere il suo vantaggio competitivo e non deve crescere come prezzazionario? Quale può essere il motivo per cui questo non avvenga? Secondo me quasi nessuno, potrebbero esserci normative antitrust, potrebbero esserci multe, potrebbero esserci bachi nel sistema, ok, ma mediamente se pensate esistono delle aziende americane legate al settore tecnologico che hanno un vantaggio competitivo inestimabile. A queste si uniscono alcune nicche di mercato. Noi in tempi non sospetti, già inizio anno, abbiamo fatto tutta un'analisi su quello che era il gaming, quindi tutto quello che erano le società che lavoravano per la costruzione, la vendita e l'implementazione di videogiochi. Questo perché? Perché nel 2019 i risultati sono stati straordinari. Ci sono state alcune trasmissioni televisive americane di finale di videogiochi che hanno avuto gli stessi telespettatori del Super Bowl. Cioè è un trend che io, avendo due figlie piccole, probabilmente non percepivo, non conoscevo, ma è un trend che sta crescendo non solo in termini ludici, ma anche in termini di relazioni sociali. Cioè capita spesso, e me l'ha confermato un mio amico che ha un figlio di 13 anni, il giocare a videogioco non è come facevo io da piccolo che giocavo contro il computer, quindi diventavo una sociale, passavo ore come un ebite davanti al pc, ma si crea un rapporto con una persona che c'è dall'altra parte con cui si condivide la partita. Questa persona ci si vede attraverso la webcam e si creano delle relazioni, delle amicizie che una volta si facevano magari nel cortile, che adesso si fanno attraverso il gaming. Che questo sia positivo o negativo non lo so, però è una tendenza e questa tendenza è difficile che cambi. Di conseguenza siamo andati a cercare quali fossero le aziende che avessero almeno il 50% di business legato ai videogiochi, quindi aziende che avessero come core business principale questo, e abbiamo trovato ad esempio un straordinario etf di Banek che va proprio a investire in questo settore e se vediamo qual è l'andamento di questo etf, che è la linea in grigio, che sta facendo più del 20% da inizio anno, rispetto al Nasdaq, che è la linea blu, rispetto all'SP500, che è la linea rossa, rispetto al Fuzi Mib, che è la linea gialla, guardate la straordinarietà dell'andamento non solo in termini di risultato, ma anche in termini di drawdown, perché è sceso meno del Nasdaq ed è salito più del Nasdaq. Cosa può succedere per cui questa tendenza si riduca? Beh è difficile da dirlo, sicuramente è una tendenza importante che sarà lamentata anche dal lockdown, perché in questo periodo sono stati tutti a casa, quindi essendo stati tutti a casa ovviamente si è implementata ancora di più. Quindi andare a trovare questi settori che possono dare una diversificazione strategica è assolutamente fondamentale. Ultimo tassello in questa analisi che voglio proporvi per la difesa del patrimonio di famiglia è l'analisi dei costi. Questo è un portafoglio reale fatto da un piccolo cliente che è arrivato la scorsa settimana, che aveva un portafoglio fondi, un portafoglio fondi diversificato, dove le sue prime due cose che mi ha detto sono sto perdendo, non so perché, perché sono sicuro di non avere praticamente pochissimo azionario in portafoglio, di aver chiesto al mio consulente promotore di non avere del rischio e soprattutto questo promotore mi fa tutto questo tipo di servizio gratis e quindi sono contento di questo, però sto perdendo un sacco di soldi. Allora ovviamente sono sicuro che il pubblico che mi sta seguendo adesso, tutto il pubblico di investor è un pubblico molto evoluto, però probabilmente queste cose le sa già, però voglio darvi questo spunto di riflessione. Andate e perdete del tempo a vedere se all'interno del vostro portafoglio, soprattutto portafoglio fondi, qual è il costo reale? Perché questo signore pensava di non spendere nulla, in realtà il ter di portafoglio, quindi il costo di questi fondi, era pari al 2.13%, quindi era un costo che se moltiplicato per dieci anni potete immaginare quanto fa. Quindi prima di tutto andare a analizzare quali sono i costi occulti e questi sono solo quelli dichiarati e poi ci sono quelli di performance, eccetera, che aumentano il terro in maniera notevole. Quindi già pensava di non pagare niente e ha scoperto che pagava, considerando anche il costo di performance, più del 3%, quindi 2.13% più le per. Ma soprattutto la cosa che l'ha lasciato più scioccato è pensare che questo portafoglio fosse un portafoglio tranquillo. Invece siamo andati a vedere che andando a sezionare tutti i fondi, andando a vedere che cosa c'è dentro questi fondi, abbiamo visto che la componente azionaria era del 30%, ma non solo, non c'era quasi nessuna componente obbligazionaria, ma c'era una componente bilanciata del 46 e una componente alternativa del 22. Quindi andando a vedere ogni singolo strumento e andandolo a pensare, lui aveva più del 50% dei patrimoni nazionali ed era totalmente lontano da quello che era il suo obiettivo di rischio e da quello che era la sua idea di pianificazione finanziaria. Quindi dobbiamo cercare di dedicare del tempo, sia aumentare la cultura finanziaria, ma anche prendere in mano i nostri risparmi, cercare di capire che cosa c'è dentro. Perché io non posso pensare di non avere il rischio e poi trovarmi in portafoglio il 50%. Non posso pensare di occuparmi dei miei risparmi solo quando il patatac è fatto. Io devo andare dal medico per prevenire, non devo andare dal medico solo dopo per farmi curare. Se io faccio prevenzione, inizio a prendere in mano i miei risparmi, è molto probabile che poi non avrò brutte sorprese. Non solo, ma all'interno di questo portafoglio c'era quel fondo che vi ho fatto vedere prima, che pesava anche per il 20% del suo portafoglio complessivo e di conseguenza gli ha creato un drodà, una perdita devastante. Occhio che all'interno di questo discorso una componente fondamentale la fa l'aspetto fiscale, che forse è quello più sottovalutato di tutti, o almeno da molti miei colleghi e sicuramente da molti clienti, perché ricordatevi che i fondi e gli etf non compensano le plusvalenze con le valenze. Cosa vuol dire? Che se io su un fondo perdo 10.000 euro e sul fondo successivo ne guadagno 10, io sul guadagno successivo pago comunque il 26% di tasse, quindi pago 2.600 euro di tasse e la somma poi dei miei risultati mi crea un portafoglio negativo. Quindi qual è anche un altro obiettivo della diversificazione strategica? Unire portafogli in etf che sono inefficienti fiscalmente con altri strumenti che possono compensarmi le minusvalenze generate dagli etf con le plusvalenze derivanti da azioni e cedole. Quindi il mercato azionario singole azioni, il mercato dei certificati, l'andamento in conto capitale delle obbligazioni, tutti strumenti che possono andare a compensare le minusvalenze generate da fondi etf che non si autocompensano fra di loro. Quindi anche tutto l'aspetto fiscale è assolutamente un tassello che all'interno della pianificazione finanziaria, all'interno della diversificazione strategica diventa fondamentale. Perché regalare i soldi allo Stato? Cerchiamo di pensare prima di andare a compensare le minusvalenze che purtroppo in questa fase e per molti portafogli che ho ereditato sono alte con degli utili e senza dover pagare le tasse. Inoltre, e andiamo verso le conclusioni, io ritengo che per gestire al meglio la crescita personale, le difficoltà della vita che in questa fase ci sono state per tutti, io ad esempio il lockdown non l'ho neanche vissuto perché i mercati sono sempre stati aperti, sono sempre venuti in ufficio visto che ero autorizzato, ho una moglie che è dipendente in una farmacia quindi è andata a lavorare tutti i giorni con un altissimo rischio, ho un fratello medico che era in prima linea, quindi le difficoltà della vita ci sono per tutti ma se io voglio gestire meglio queste, voglio gestire meglio la crescita personale ma soprattutto se ho dei figli come sottoscritto ancora di più, voglio cercare di vivere meglio la relazione con se stesso, con gli altri ma soprattutto col denaro perché la gestione dei propri risparmi non deve essere un incubo ma un piacere, è fondamentale aumentare la cultura finanziaria. Questo è una cosa su cui batto e batto tantissimo sia in ambito accademico che con il mio blog dei patrimoni di famiglia sia insieme a Gamma Capital Market, quindi porre attenzione alla gestione dei propri risparmi per capire come si fa a risparmiare ma poi come trasformarsi da risparmiatore investitore consapevole, cioè capire dove sto mettendo i miei soldi, perché sto diventando socio di quell'azienda e voglio diventare socio di quell'azienda per speculare o perché ritengo che Amazon da quei prossimi dieci anni diventerà il leader mondiale e farà ancora più 100%. Queste sono le domande che dobbiamo porre e da qui dobbiamo creare una diversificazione strategica. Quindi c'è appunto una diversificazione di approccio che ritengo fondamentale, poi un cambio di mentalità e ovvio qua tiro un po' acqua al mio mulino ma che deve andare verso la consulenza indipendente. Io devo pagare un professionista perché faccia il mio interesse, non perché mi piazzi dei prodotti. Ovvio non sono tutti così, ci mancherebbe altro. Io conosco dei professionisti che lavorano in banca, che sono fiorfiori di professionisti che usano i fondi e che fanno l'interesse dei loro clienti. Ma spesso questa trasparenza non c'è, spesso i costi occulti dei portafogli sono alti, quindi fate attenzione perché ci sono soluzioni alternative. Ci sono soluzioni che possono permettere di difendere al meglio i propri risparmi con degli accorgimenti che non sono così tremendi, sono delle cose che potete mettere in atto anche voi oppure appoggiatevi a qualcuno che possa fare consulenza indipendente. E questo è il messaggio con cui voglio concludere, è un messaggio positivo, di speranza perché io ritengo che l'economia riparta, che là fuori ci sia tutta una serie di persone che secondo me può vivere in maniera più consapevole, che può fare più attenzione ai costi, ma che può fare più attenzione anche alla natura, all'altro. Qualcosa sta cambiando, l'ho visto in tante piccole cose, però questo qualcosa che cambia magari nella vita di tutti i giorni, che ci ha portato a delle difficoltà, deve cambiare anche all'interno dei propri risparmi. E quindi cosa si occupa Gamma? Gamma si occupa di tante cose, dalla consulenza Pioli di cui io sono responsabile, crea delle linee di gestione personalizzate attraverso una serie di strumenti che vanno dall'analisi dei brands negli Stati Uniti, ai megatrend, a tutte quelle asset class che ci porteremo e saranno il core business dell'economia americana nei prossimi anni. Tutto questo per però non serve a nulla se io non faccio una pianificazione finanziaria, quindi non capisco quelli che sono i miei obiettivi e quello che posso permettermi di rischiare, e soprattutto uno degli aspetti che diventerà sempre più fondamentale è il passaggio generazionale. Ricordatevi che fra un po' di tempo non sapranno più dove prendere i nostri soldi e andranno a abbassare le franchigie nelle successioni. Abbassando le franchigie nelle sostituzioni ci sarà tutta una serie di persone che sarà coinvolta, che dovrà poi mettere mano nel portafoglio quando purtroppo il nostro caro ci lascerà patrimonio. Quindi anche qui bisogna pensarci prima e pensarci come cercando dei prodotti che non mi vadano a massacrare di costi, ma che siano dei prodotti conformi alle mie esigenze. Quindi qualunque tipo di informazione potete scrivermi, qui c'è la mia mail, ma soprattutto vi invito, se non l'avete già fatto, a seguirmi su questo progetto, che è un progetto che non ha fini commerciali, è assolutamente la voglia di condividere cultura finanziaria. Si chiama patrimonio di famiglia, c'è il blog patrimonio di famiglia.it, c'è un canale telegram che si chiama patrimonio di famiglia dove mediamente una volta a settimana faccio un messaggio vocale, racconto alcune cose. In questo periodo è stato particolarmente intenso sui mercati, quindi sono rimasto un po' indietro, ma tutti i giorni o quasi una, due o tre volte a settimana a seconda del periodo, sia su Facebook che su Instagram faccio dei post in cui commento dei pensieri legati alla difesa dei patrimoni, alla gestione dei propri risparmi, a che cos'è il debito, perché il debito può essere utile ma solo in alcune fasi. Quindi tutti argomenti che possono aumentare quello che è la divulgazione della cultura. Quindi vi chiedo se dovesse piacervi questo tipo di progetto di andarlo a divulgare anche agli altri, perché tutti noi abbiamo delle persone vicino a noi che devono aumentare la propria cultura finanziaria. Ogni tanto mia moglie mi odia in modo simpatico perché quando facciamo i viaggi la interrogo chiedendole che cos'è un fondo, che cos'è un'obbligazione, perché sia importante la diversificazione, ma anche perché quando ho preso in mano i suoi risparmi non aveva più palli d'idea di che cosa significasse investire. E così come lei, che ha fatto un percorso di crescita, avendomi da fianco tutti i giorni, che vi ho rotto le scatole in maniera simpatica spesso, così ognuno di noi può avere di fianco qualcuno che ha bisogno di riflettere su questi argomenti. E questo vuole essere un percorso in quella direzione, fatto con il supporto di alcuni colleghi di Gamma e con Michele Di Leo che mi aiuta in tutta questa struttura, ma che ha l'obiettivo di coinvolgere anche studenti universitari, di portare i giovani a parlare di cultura finanziaria. I giovani devono poi prendere in mano per mano i genitori, i nonni, perché la cultura finanziaria è trasversale. Quindi, per qualunque tipo di curiosità, e non so se ci sono domande Maurizio, ma per qualunque tipo di curiosità qua c'è la mia mail, i riferimenti anche del sito di Gamma e non esitate ovviamente a scrivermi. Maurizio, dimmi pure se ci sono curiosità, se hai racconto qualche... Assolutamente, c'è una forte interazione del pubblico, anzitutto i complimenti per la tua esposizione, come al solito sempre piana e molto chiara. Vorrei sottolineare al pubblico che il progetto portato avanti, descritto ora da Giovanni Coniberti, ha un'entusiastica approvazione e partecipazione da parte di tutte le testate che rappresento da parte di investors e di traders in modo particolare, perché un blog che diffonde cultura finanziaria con l'autorevolezza di Giovanni Coniberti, signori, è un qualche cosa di cui... che dovete conoscere e a cui dovete frequentare, perché è un blog che serve per arricchire la vostra cultura ed è la ragione per cui siamo più che mai noi stessi dei fan di questo blog e dei fan di tutto quello che è l'opera di Giovanni Coniberti con i suoi patrimoni e famiglia per diffondere cultura. Ora, Giovanni, una domanda di un nostro ascoltatore. Come pensi delle polizze private per proteggere ancora di più gli asset ed avere nel contempo una uniformità e di conseguenza una migliore efficienza fiscale? Qual è la tua opinione in merito? Le polizze sono sicuramente uno strumento molto interessante, soprattutto se all'interno della polizze io riesco a fare tutta una serie di gestioni attive che mi permettano di raggiungere i miei obiettivi di pianificazione finanziaria. Le polizze hanno un problema principale che è quello dei costi, bisogna fare attenzione perché non tutte le polizze sono uguali, esistono polizze anche di realtà molto grosse che hanno dei costi bassi, come delle polizze a Unit Link che purtroppo hanno dei costi occulti molto alti. Quindi è un aspetto da analizzare molto interessante. Uno degli strumenti che io trovo straordinario all'interno di una polizza è la Well Cover. Che cos'è? La possibilità di fare una gestione attiva azionaria e obbligazionaria ma garantire il capitale per i propri eredi. Quindi se io verso una cifra, facciamo finta 500.000 euro, e voglio che nel momento in cui l'assicurato venga a mancare, questi soldi vengano garantiti ai miei eredi, indipendentemente da quello che può essere l'andamento, ovviamente se sale viene dato di più, ma se da 500.000 euro dovesse scendere a 400.000, ci sono delle soluzioni ormai straordinarie che permettono di garantire questo capitale. Quindi fare una gestione attiva a cui si unisce la garanzia del capitale. Quindi sono strumenti molto interessanti. Bisogna fare attenzione ai costi occulti, perché in alcuni casi ne ho viste ovviamente di cotte di crude. Quindi bisogna conoscerle, bisogna capire quali sono le soluzioni migliori presenti sul mercato. E bisogna saperle selezionare. Ed è una delle ragioni per cui da sempre investors e traders credono nel fiolli, credono nella consulenza indipendente, di cui tu Giovanni sei da sempre un forte sostenitore. Noi lo siamo insieme con te, perché riteniamo che la consulenza indipendente è la frontiera della trasformazione per poter consentire una diffusione di una cultura finanziaria sempre più capillare, sempre più vasta. È una cosa di cui l'Italia ha non bisogno, ma ha disperato bisogno, perché siamo un paese di grandi risparmiatori, abbiamo un volume di risparmio gigantesco rispetto al nostro PIL, abbiamo una capacità e una volontà di risparmio significativa, dobbiamo maturare di più nel capire come allocare meglio questo risparmio in forma di risparmio, in forma di investimento e soprattutto di trovare la strada per affidarci alle persone e ai consulenti che sono realmente indipendenti e che non dipendono necessariamente da ordini di scuderia, perché di questo stiamo parlando, non lo hai detto tu, non lo dici tu, ma posso dirlo io come direttore di investors e di traders, va bene che purtroppo sono gli scuderia che vengono dall'alto, che qualche volta condizionano in modo molto pesante le gestioni. Ed è questo il fatto che la consulenza Fiolli è la vera nuova frontiera per la diffusione della cultura finanziaria. Io vedo il bicchiere mezzo pieno Maurizio, ma lo vediamo anche negli eventi che abbiamo fatto insieme in Italia, sul territorio piemontese, per cui c'è poco per volta una maggiore attenzione in tutte le fasce d'età, perché abbiamo visto quando è organizzato un evento quante sono le persone che sono venute ad ascoltarci, ma lo vedo soprattutto nei giovani. Io ho la fortuna di insegnare all'università, qui alla Scuola di Management d'Economia, l'ex Facoltà di Economia, di fare un corso di strategie tecniche con le sezioni di borsa, ma l'entusibiasmo che hanno questi ragazzi nell'approfondire anche in maniera a sé stante alcuni argomenti, quindi andare oltre al percorso universitario, è una cosa che mi rende pieno di gioia e mi dà forza e stimolo per divulgare la cultura finanziaria anche al di fuori dell'università, perché solo attraverso questa si può effettivamente rilanciare l'Italia nelle piccole cose facendo attenzione a investire nel modo corretto i propri risparmi, a ridurre i costi, ma anche a non lasciare tante liquidità sul conto corrente del mio, perché a volte la liquidità investita può aiutare l'Italia a risollevarsi prima e questo dobbiamo farlo perché quello che in Italia è il risparmiatore, io lo dico un po' in piemontese, il bugianè, quello che sta lì aspettando che succeda qualcosa deve trasformarsi in un investitore consapevole e così l'Italia può farcela. Assolutamente d'accordo, hai citato l'oro nella tua esposizione e hai suscitato la curiosità o la volontà di sapere da molti ascoltatori, cerco di riassumerti le domande compattandole, Raffaella la regia mi ha fatto una grande cortesia di compattazione delle domande e le domande sono sostanzialmente ma se io voglio acquistare oro, posso, cioè in che forma devo acquistarlo? Posso acquistare quello fisico? Posso acquistare quello virtuale? Posso acquistare gli ETC? Quali sono i tuoi consigli sugli strumenti da utilizzare per avere dell'oro in portafoglio? Allora l'oro fisico ha il grosso problema che poi devo conservarlo da qualche parte e qui bisogna fare molta attenzione perché le cassette di sicurezza non tutte sono uguali e abbiamo casi qua a Torino di figliani che sono state svaliggiate e spesso le persone non avevano fatto un'assicurazione che andava a coprire l'intero patrimonio di oro che magari c'era lì dentro e quindi l'oro fisico ha questo grosso problema che dove tenerlo? Bisogna tenerlo in un posto sicuro se andiamo sui mercati finanziari bisogna cercare di capire qual è l'ETC che fa al caso nostro quindi immediatamente andare su un ETC che abbia un sottostante fisico quindi che non sia una replica sintetica ma che abbia sotto di sé qualcosa di concreto e fare un paragone fra questi ETF sia in termini di costi sia in termini di andamento il grosso vantaggio di avere l'oro, quello finanziario cioè l'ETC è il fatto che io posso comprarlo e venderlo in maniera molto rapida e molto veloce quello fisico invece in caso di esigenza ne chiede dei tempi più lunghi per riuscire a trasformarlo in soldi quindi c'è il pro e incontro in entrambe le situazioni io personalmente sono investito su un ETC quindi non ho oro fisico, sono andato sui mercati poi dipende anche dal patrimonio e da quanto io posso permettere di diversificare però nel caso in cui uno dovesse decidere di prendere oro fisico diventa fondamentale andarlo a conservare nel posto corretto Giovanni, come hai accennato nel corso della tua esposizione ai costi occulti un ascoltatore chiede ma in definitiva per scoprire i costi occulti che cosa devo fare? Allora, le soluzioni sono diverse principalmente i costi occulti si trovano all'interno o di prodotti strutturati quindi sono linee di gestione, polizze assicurative che solitamente hanno un costo come struttura ma poi all'interno hanno dei fondi a volte questi fondi sono gli stessi della casa e questa sommatore di costi va poi a erodere il mio capitale e a crearmi a volte anche delle perdite quindi se io ho dei fondi ad esempio devo andare a cercare quello che è il costo di gestione o quello che in gergo si chiama TER quindi quello che è effettivamente il costo di detenere quei soldi in quel fondo per un anno devo poi andare a prendere questo valore che è un valore percentuale facciamo finta al 2% moltiplicarlo per il controvalore che ho investito su quel fondo e so qual è il mio costo occulto che non vedo perché non devo pagare una parcella ma mi viene eroso ogni tot di periodi dalla mia quota se invece ci sono prodotti più complicati come dei certificati bisogna andare a vedere qual è il costo di collocamento si trova nel KID cioè in quei prodotti in quegli strumenti informativi dove deve essere tutto dichiarato oppure se andiamo a investire su un ETF un ETC anche qui all'interno del prospetto informativo KID troviamo quelli che sono i costi però se mediamente un ETF sul mercato americano costa lo 0,10 all'anno un fondo azionario america capace a costare anche l'1,5-2 quindi o il gestore è particolarmente capace per cui mi dà un valore aggiunto per cui merita pagare questa differenza oppure è meglio non pagare deve esserci dietro ovviamente un'analisi che va fatta bene va fatta in maniera precisa dove posso andare a trovare questo TER? lo posso trovare nel prospetto informativo KID oppure posso andare su alcuni SID come quello di Morningstar dove tutto ben dichiarato e ben descritto andando a usare quello che si chiama il codice ISIN cioè quel codice che va a identificare il fondo che ho in portafoglio perfetto un ascoltatore ha registrato una tua affermazione dove dicevi il portafoglio è analizzato a un TER oltre il 2% e poi ci sono le commissioni di performance ma il TER non ne li comprende già? dipende dal periodo e dipende da come vengono calcolate le commissioni di performance ci sono delle commissioni di performance che vengono calcolate col metodo I Watermark che è il metodo corretto cioè ogni X periodo facciamo finta una volta all'anno si valuta se il valore della quota era più alto rispetto al periodo precedente in cui ho pagato le performance in alcuni casi però e fortunatamente non ci sono ci sono sempre meno fondi che fanno così ma me ne è capitato l'altro giorno uno di una famosa SGR torinese che invece calcola le performance ogni tre mesi c'è ogni orizzonte temporale quindi se prima ho fatto meno 80 adesso sparo numeri a caso e dopo ho fatto più 10 quindi i primi tre mesi ho fatto meno 80 i tre mesi successivi ho fatto più 10 quindi sono ben lontano da recuperare le mie perdite però lui guarda con la finestra temporale e va a calcolarmi le performance su quel più 10 e questo si chiama furto non c'è altro modo per definirlo si chiama furto quindi non sempre all'interno del TER vengono calcolate le commissioni di performance e non è neanche così facile andarle a calcolare perché bisogna andare a prendere il prospetto informativo andare a cercare effettivamente come vengono calcolate andare a cercare una disclosure su quali sono le fasce temporali in cui sono state calcolate è un lavoro impegnativo quindi per chi non ha voglia di farlo può partire dal TER che è già una informazione importante ricordatevi che però i fondi hanno un problema e l'ho visto con i miei occhi che spesso vengono usati per comprare vendere, comprare, vendere, comprare, vendere e generare commissioni che incassa la banca e che paga il fondo se le paga il fondo chi è che le paga? il cliente su cui investito quindi anche lì tutti i fondi sono da buttare no, ci mancherebbe ci sono dei fondi che sono straordinari ma se le statistiche dicono che l'86% dei fondi non batte gli etf non batte gli indici di riferimento un motivo deve esserci perfetto, molto chiaro che cosa pensi Giovanni delle obbligazioni i-yield? le obbligazioni i-yield sono obbligazioni che ovviamente non vanno bene per tutte le stagioni perché hanno all'interno mediamente delle aziende che hanno un bilancio ovviamente non roseo quindi in situazioni come queste uno deve essere consapevole che queste obbligazioni possono subire uno scostamento di prezzo notevole domanda di un cliente nuovo che è venuto da me giusto una settimana fa che era pieno di obbligazioni Renault e allora mi ha chiesto un parere visto questi rumor su Renault e l'analisi è molto semplice io vado a vedere quanti sono gli anni che Renault ci mette col proprio fatturato a ripagare l'inibitamento sono nove anni rispetto a una Fiat che ce ne mette uno e mezzo o due e capite che i giochi sono belli che fatti Renault è un'azienda che tecnicamente rischia fallimento poi magari lo Stato francese non la farà mai fallire però ci sono una serie di obbligazioni per cui bisognerebbe andare dentro capire il vantaggio competitivo vedere se hanno dei competitor vedere qual è l'inibitamento quanti anni ci mettono di fatturare bisogna fare quelle analisi per cui la yield quindi le obbligazioni tendenzialmente più piccole o più rischiose possono diventare delle grosse opportunità ma ogni tanto anche dei grossi rischi quindi non è un argomento così semplice e anche gli ETF e i yield noi dobbiamo essere consapevoli che oscillano di più e quindi se oscillano di più mi verrebbe da dire siamo sicuri che la soluzione è giusta cioè avere un obbligazionario che oscilla tanto se oscilla tanto siamo sicuri che oscilli così di meno rispetto al mercato azionario e dipende da caso a caso dipende anche dal profilo di rischio della persona che ho davanti l'obbligazione a yield può essere una grossa opportunità ma un grosso rischio quindi non è una risposta che va bene per tutti i casi bisogna purtroppo andare dentro e capire quell'ETF o quella singola obbligazione a yield quali sorti può avere soprattutto in questo momento dove il contesto è in un contesto di forte rallentamento dei consumi e quindi anche del fatturato quindi molta molta attenzione perfetto utilizzi anche le opzioni nei modelli di investimento a scopo di copertura? no, le opzioni non le utilizzo utilizziamo gli ETF short o in alcuni casi future quando il cliente è più voluto ma mediamente gli ETF short per fare le coperture e ogni tanto anche gli ETF short a leva non usiamo le opzioni perché io ritengo che non si possa essere tuttologi e quindi questo ufficio studi che da me è organizzato ma ho la fortuna di avere quattro colleghi straordinari che sono Dario, Clelia e Diego con il supporto anche di Silvano e di altri ragazzi che nelle università vengono a fare tirocinio abbiamo deciso di focalizzarsi sulle cose che sapevamo fa e riteniamo che per tutta una serie di clienti andare a creare una strategia con opzioni sia più complicato rispetto al beneficio che si può avere e abbiamo deciso di concentrarsi su altre cose che sono le modelli quantitativi sugli ETF sui singoli titoli azionari che per il sottoscritto che è esperto di mercato obbligazionario la selezione di obbligazioni che possono andare a un resta rendimento rispetto ai titoli di Stato quindi abbiamo deciso di fare una scelta diversa non per questo che le opzioni non debbano essere usate gli strumenti non sono rischiosi di per sé gli strumenti sono rischiosi se io non li so usare quindi ben venga se uno sa usare le opzioni creare strategie di copertura con le opzioni ma devo essere consapevole di quello che faccio perché se no lo strumento diventa pericoloso Un ascoltatore chiede un'idea sulle fiolle medie dei vostri servizi io se sei d'accordo direi che l'ascoltatore può direttamente inviare una e-mail alla e-mail che trova qui sotto in modo tale che voi possiate rispondere all'ascoltatore con i dettagli che una domanda di questo genere comporta e per dialogare con lui quindi dipende molto anche dal patrimonio da che cosa vuole fare sui suoi risparmi ci sono tanti tasselli da analizzare esatto quindi per non entrare in dettagli che poi finirebbero con l'appesantire il contenuto del webinar certamente e magari non interessare tutti certamente consigliamo l'ascoltatore di mandare una e-mail a giovanni.cuniberti chiocciolagammamarkets.it che è quello che vedete in questo momento in sovraimpressione nella slide proiettata dunque un'altra domanda se utilizzi anche strumenti short tipo non so etf short o cose del genere si usiamo principalmente etf short cioè cosa vuol dire etf che salgono di prezzo quando il mercato scende li utilizziamo principalmente sugli indici di mercato e li utilizziamo principalmente per fini di copertura quindi le soluzioni durante i periodi di turbolenza sono alleggerire l'azionario oppure andare a creare quindi comprando degli etf che vadano a replicare l'andamento del mercato ribassista quando questo secondo noi deve scendere fare operazioni short profittevoli è la cosa più difficile in assoluto è molto più profittevole riuscire a ridurre le posizioni e poi rientrare rispetto a trovare il timing corretto per fare una copertura questo me lo dice l'esperienza me lo dice anni di lavoro la copertura serve quando io ho principalmente l'urgenza di coprire delle posizioni quindi faccio molto prima rispetto ad andare a chiudere un portafoglio e tutta una serie di strumenti che ho ma se vado a vedere l'efficienza del timing molto spesso riuscire ad avere un portafoglio diversificato che in automatico mi riduce il rischio perché fa scelte di inversimento diversificate su strumenti che non siano correlati al mercato azionario e nel lungo periodo la soluzione è migliore allora un ascoltatore chiede se Gamma Markets fa anche linee di gestione patrimoniale credo di sì credo che possiamo tremendamente rispondere di sì e siccome chiede di poter approfondire ancora una volta lo invitiamo a scrivere a giovanni.coniberti chiocciolagamamarkets.it lo scriviamo anche nella 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 bacheca chiedo scusa se divento dislessico a una certa ora ma anche io guardo tutta la giornata ok dunque piccole cifre in oro da investire mese per mese come se fosse una sorta di pack dell'oro si fate solo può essere una soluzione però fate ovviamente intenzione attenzione alle commissioni di negoziazione perché cosa vuol dire piccola cifra bisogna vedere poi quanto vado a pagare di commissioni perché mediamente le commissioni e le banche hanno un fisso più un variabile non tutte le banche hanno una commissione fissa sempre quindi fate attenzione fatevi due calcoli che sia conveniente farlo perché a volte la piccola cifra ovviamente che dipende quant'è la piccola cifra può diventare un boomerang se io vado a pagare altre commissioni di ingresso su quello strumento ho proposto Stati Uniti un nostro ascoltatore dice ma non ha fatto cenno al potenziale cinese può darci qualche opinione probabilmente Giovanni ha letto una delle mie mail di fuoco contro la Cina e si è astenuto sta scherzando ovviamente dare una risposta sulla Cina quando noi stiamo parlando di dati non veri io posso fare tutte le analisi che voglio ma ho sempre il dubbio di andare a comprare un mercato che non sia un mercato trasparente se la vediamo nel lungo periodo è un dato di fatto che la Cina crescerà perché abbiamo più quasi un miliardo e mezzo di poveri che poco per volta diventeranno sempre meno poveri e che inizieranno a consumare quindi che cosa consumeranno sia prodotti locali che prodotti americani quindi questo è un bacino di crescita economica mostruona sia locale ma anche internazionale sia anche a livello di turismo per l'Italia perché ricordiamoci che il flusso di turisti cinesi in Italia è una fonte di reddito importante speriamo di riprendere presto a far vedere le meraviglie del nostro paese quindi la Cina è un asset secondo me che va messo nei portafogli con moderazione cioè se dovessi scegliere tra Cina e America io sono sempre più filo americano sul mercato azionale come ho fatto vedere prima andando a trovare quei settori non ve ne ho citato uno quello del cloud computing quindi di tutti i settori tutte le aziende che vanno a investire sui cloud ma ce ne sono altri quindi preferisco andare su un mercato che riesco a capire meglio su cui ho dati da analizzare ma questa è un po' deformazione mia professionale che io non investo se non capisco dall'altro nel lungo periodo la Cina non può che crescere indipendentemente dalla guerra commerciale perché è uno Stato è una dittatura perché lo Stato aiuta le imprese perché ci sono poco per volta dei poveri che arriveranno a consumare e quindi nel lungo periodo è un investimento da fare io sono per delle dosi sicuramente ridotte rispetto a un investimento in America perfetto molto chiaro scusate ho perso ecco cosa pensa cosa pensi Giovanni dell'argento e della cyber security come settore allora cyber security sicuramente è un argomento fondamentale e lo sarà lo è per il sistema bancario lo è per i nostri computer quindi ci sono tante aziende la stessa Norton che ha dato solo l'anno scorso un dividendo pazzesco è un settore dove non è tutte rose e fiori ci sono delle aziende anche che fanno fatica quindi a livello generale bisognerebbe fare un po' più di stock picking rispetto a prendere il settore in totalità e di conseguenza magari affidarsi a qualcuno che fa stock picking noi abbiamo un nostro caro collega che è specializzato in questi settori americani ma per quello che riguarda l'argento io se devo scegliere tra ore l'argento non ho nessun tipo di dubbio io vado sull'oro ma lo dicono anche i numeri lo dice tutta una serie di come ho detto prima di scarsità per cui preferisco l'oro e l'argento e di conseguenza negli ultimi anni non ho mai investito nell'argento non so dirvi se ho fatto bene o se ho fatto male è uno strumento su cui ho fatto sempre più fatica a studiare e a capire mentre l'oro è uno strumento dove trovi molto più materiale molto più ricerca e di conseguenza lo trovo più trasparente quindi preferisco mille volte l'oro all'argento se la domanda sull'argento era una domanda legata alla protezione del capitale più che all'investimento speculativo perché la protezione del capitale la faccio secondo me meglio che con l'oro rispetto all'argento pur l'argento avendo un suo valore ma mille volte l'oro assolutamente sto arrivando se però si è parlato di terre e commissioni poi evitate di dichiarare le proprie almeno le indicazioni sarebbe gradita quale indicatori economici dell'azienda utilizzano le scelte per azioni obbligazioni eccetera beh però no ecco l'indicazione sarebbe gradita ma noi non è che la nascondiamo diciamo semplicemente che non è questa la sede per parlare di sicuramente è la metà dei fondi di investimento come ter che abbiamo visto prima quindi diamo per l'indicazione è la metà di un ter classico e avrete tutti i dettagli che allora quali indicatori economici dell'azienda utilizzano le scelte per azioni obbligazioni oltre al basso debito e a quanti anni il fatturato ripaga il debito aziendale praticamente sui fondamentali devo dire che è stato molto attento ecco su quali elementi fondi quali indicatori economici appunto ritieni affidabili per valutare una scelta di azioni o di obbligazioni allora per quanto riguarda l'obbligazione rispondo a una domanda cioè se io dopo aver studiato l'azienda e aver visto che ha una solidità patrimoniale quindi una crescita di fatturato una crescita degli utili dopo aver visto che attraverso l'EBIDDA che è uno dei parametri fondamentali che studio va a ripagarsi il fatturato massimo in 3-4 anni non di più perché sopra i 4 anni diventa un'azienda a rischio fallimento vado a vedere ovviamente lo scenario dei tassi di interesse e poi rispondo alla domanda questa obbligazione oggi la metteresti in portafoglio e questa domanda la faccio sia per le obbligazioni nuove che compro ma anche per quelle che ho già in portafoglio se la risposta è no le vendo quindi c'è un confronto fra l'analisi di bilancio l'analisi del rendimento quindi del delta rendimento rispetto al rating che lascia un po' il tempo che trova ma rispetto al rating e rispetto al titolo di stato dell'area questa analisi fatta sul mercato obbligazionario si sposta in parte anche su quell'azionario dove le cose vanno molto spesso a sovrapporsi perché io quando studio un'azienda la studio sia in ambito azionario che in ambito obbligazionario in ambito azionario ci sono due cose in più da guardare uno è la presenza di competitors quindi se effettivamente il valore dell'azienda è un valore che ha delle aziende simili come stanno andando se questo valore può essere eroso da dei competitors e soprattutto se ha un vantaggio competitivo cioè ha un prodotto forse lo accennavo prima ha un prodotto che oggi funziona e può funzionare nei prossimi dieci anni questo lo faccio sia per le aziende grandi dove attraverso i dati di bilancio si scopre un po' tutta la storia dell'azienda sia su aziende piccole dove bisogna fare un po' più attenzione perché a volte sono delle aziende magari un po' più illiquide dove è difficile andare a metterci tanti soldi ma se uno riesce a conoscere il management riesce a capire se quell'azienda ha effettivamente un prodotto unico o un prodotto che non ha concorrenti o quasi ed ha una solidità di bilancio lì unisco veramente tanti tasselli che mi permettono di investire sia sull'azione con un orizzonte temporale un po' più da socio di investimenti non da trading oppure mi fa permettere di investire su quell'obbligazione se ha un rendimento che va a remunerare abbattere l'inflazione e a remunerare il mio capitale in maniera migliore rispetto a un titolo di Stato dove sul titolo di Stato italiano si potrebbe aprire un dibattito lunghissimo per quello che era la sostenibilità del debito pubblico ma potremmo far notte quindi è difficile dire un parametro solo è un percorso di analisi che porta poi a delle scelte di investimento anche sui singoli titoli che vanno però poi sempre monitorati Perfetto Quali strumenti utilizzi per diversificare il portafoglio intendendo quali asset class se puoi rispondere sinteticamente più che dalle asset class parto da una diversificazione strategica quindi quali sono gli approcci che io vado a inserire all'interno del portafoglio quindi c'è la parte metodologia quantitativa sugli etf c'è la strategia sui certificati a capitale garantito c'è la strategia sulle azioni con vantaggio competitivo c'è la strategia sulle obbligazioni che mi servono per proteggermi dall'inflazione quindi sono dei box operativi che a seconda del capitale a seconda della pianificazione finanziaria del proprio di rischio dei clienti andiamo a combinare per poter dare poi quella che è la diversificazione strategica e poi in un secondo momento di strumento quindi quello che il portafoglio si chiama un po' il weather valido per tutte le stagioni noi non lo implementiamo così lo implementiamo andando a fare una diversificazione strategica che poi di conseguenza va a investire nelle varie asset classi non so se ho risposto bene alla domanda no ma assolutamente poi ti ripeto è chiaro che è una domanda che dove potresti come dicevi prima anche farci notte nel senso che se mi dai il via mi lasci parlare domani mattina ma far peraltro ti ascolteremo volentieri però anche la nostra piattaforma purtroppo ha un limite di timing che è necessario rispettare anche perché è una piattaforma come sai molto attiva a livello webinar e con addirittura adesso anche in sede internazionale perché abbiamo la nostra testata anche in spagna che facciamo webinar anche in lingua spagnola e ci stiamo preparando per farli in lingua inglese di qui alla fine dell'estate quindi saremo sempre più carichi insomma di webinar in tutte le lingue la domanda anche gli eventi quelli fisici prima possibile eh sì sì assolutamente per avere il contatto diretto col pubblico e vederlo in sala e certamente la digitalizzazione è una gran bella cosa questa sera abbiamo un numero di registrati a questo webinar che vedrà anche in forma quindi registrati il webinar o di partecipanti in diretta che normalmente non 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 sono gli stessi numeri ovviamente di eh un evento in sala che è necessariamente geolocalizzato eh ci sono i pro e i contro su tutto eh però certamente speriamo che ci ridiano la possibilità di fare eventi in sala ancora una domanda credo che siamo sulle ultime due domande eh una tua opinione sul sul rame c'è più di un ascoltatore che chiede rame è sempre il precursore di buono o cattivo andamento economico e il rame speculativo in funzione di ripresa industriale che cosa pensi di questo non sempre rame ha avuto correlazioni anticipatrici rispetto al mercato azionario in alcuni periodi sì in altri no eh ritengo che le materie prime possono essere molto interessanti perché si è bloccato tutto eh ovviamente è stato un blocco strano perché non è stato un blocco solo della domanda ma in alcuni casi anche dell'offerta perché le macchine non le producevano faccio un esempio io ho un cliente che doveva ritirare la macchina eh ad aprile e probabilmente gli arriverà tra un mese quindi è stato un blocco della domanda e dell'offerta quindi è un dato di fatto che molte materie prime possono ancora soffrire un po' però se è un dato di fatto quello che il mondo ripartirà e con la liquidità messe in campo stiamo parlando soprattutto di Stati Uniti e Cina questa liquidità eh porterà poi a una ripresa economica eh e quindi eh a una ripresa della domanda dell'offerta le materie prime è un dato di fatto che torneranno a salire se poi ci sarà inflazione le materie prime sono anche uno strumento di protezione dell'inflazione come lo è loro è difficile sulle materie prime trovare il timing io non sono un massimo esperto di materie prime anzi il mio focus è ben altro eh però ritengo che possano che possano un'occasione soprattutto se inserite nel portafoglio eh da qui a qualche mese magari non subito eh occhio sempre eh a un argomento che è venuto in auge qualche settimana fa quando il petrolio è andato con quei pochi contratti in territorio negativo a quello che è l'effetto contango che è una questione un po' più tecnica ma per chi eh conosci i future sapete che le scadenze tecniche dei future portano una variazione di prezzo tra una scadenza e l'altra che in momenti di alta volatilità può generare questa differenza enorme tra una scadenza e l'altra di prezzo e causare dei problemi poi sugli etf sottostanti che vanno a investire su questi strumenti quindi anche qui eh da conoscere bene da prendere ovviamente con moderazione ma nel lungo periodo sono convinto che tutto quello che è CRB quindi tutto l'asset di materie prime possa possa riprendersi Perfetto l'ultima domanda l'ultima è formulata per un altro da un tuo collega estremamente qualificato che segue i nostri contenuti e che evidentemente ha apprezzato molto il tuo la tua esposizione e invito per un altro questo signore che ha fatto questa domanda che adesso si riconoscerà a scriverti perché certamente è un'occasione di incontro felice per entrambi perché quando molto volentieri dialogano persone con grande esperienza di cultura finanziaria certamente non può che nascere qualche cosa di bello e ti chiedi di approfondire il tuo discorso sulle unit a capitale garantito vedo che anche questo è un argomento che stuzzica ma noi lavoriamo con due fornitori di polizze fra i più grandi presenti in Europa che non da molto tempo stiamo parlando secondo me adesso non so dire il tempo giusto un annetto hanno messo danno la possibilità al cliente di inserire questo concetto di garanzia del capitale nel caso in cui il patrimonio investito e gestito attivamente all'interno di questa polizza scenda sotto il valore iniziale facciamo un esempio io ho messo un milione di euro dopo un po' di periodi questo patrimonio sale a un milione e cinquanta poi poco per volta scende a novecentomila euro che cosa succede? che su quella differenza fra un milione e novecentomila euro parte una temporanea caso morte quindi io vado a pagare un'assicurazione che ha un costo relativamente basso che mi permette nel caso in cui l'assicurato venga a mancare di garantire il capitale al mio erede quindi se anche la gestione patrimoniale nel momento in cui dovessi mancare vale novecentomila euro io ho messo un milione il mio erede riceve un milione di euro se poi da un milione salgo e arrivo due milioni io posso alzare questa cicella a due milioni quindi posso modificarla ogni tot di periodi ovviamente non posso farlo sempre e andarla a mettere dove voglio è ovvio che tutte le volte che va sotto questa stricella parte questa piccola assicurazione questa temporanea caso morte che serve per garantire quel capitale quindi è un costo in più ma che è un costo irrisorio rispetto alla validità dello strumento che mi permette di dormire sonni tranquilli soprattutto se io uso una polizza che ha un costo di gestione di applicazione che è basso quindi una soluzione straordinaria uno per evitare di pagare le tasse in successione due perché mi permette di garantire il capitale quindi soprattutto se all'interno poi di questa polizza non ci sono i soliti fondi che ci piazzano ovviamente le varie case bancarie meglio se c'è una gestione attiva con dei costi ridotti faccio bingo quindi uno strumento che mi piace veramente tanto ma occhio perché il mondo delle polizza è molto variegato e ci sono anche polizza con dei costi di ingresso molto alti di uscita pure quindi vanno studiate molto bene perfetto sono le 19 e 30 minuti credo precise è stata una lunga coda di domanda a cui ti esprimo tutta la gratitudine mia e del pubblico per la completezza e la precisione delle tue risposte la pazienza che hai dimostrato e la la tua grande chiarezza e puntualità espositiva Giovanni ti sono veramente grato come editore di Investors e di Traders per aver aderito al nostro invito mi auguro che questo possa io devo ringraziare te ma è un ringraziamento che dura da diversi anni per tutto quello che fai legato alla divulgazione delle informazioni della cultura finanziaria so quanto il mondo dell'editoria è un mondo complicato difficile e quindi mio è un applauso veramente grande per tutto quello che fai è un ringraziamento per l'invito per tutte le volte che mi hanno fatto delle belle conferenze insieme anche con tanti altri colleghi e invito ovviamente anche tutti quelli che hanno ascoltato a contattarmi anche per una chiacchierata o un'analisi del portafoglio totalmente gratuita perché in un momento così difficile per tutti e per tante attività lavorative perché l'ho toccato proprio con mano anche dei miei clienti industriali che si sono trovati dal mattino alla sera da vedere tutto bloccato è importante dedicare del tempo ai propri risparmi e non lo dico per me non lo dico per la mia azienda ma lo dico per voi perché partendo dalla buona pianificazione finanziaria posso affrontare con serenità le varie fasi della vita positive o negative che sia perfetto grazie Giovanni grazie della tua partecipazione grazie a tutto il pubblico per la partecipazione per il calore per l'entusiasmo anche per i complimenti che arrivano in baccheca per noi come casa editrice grazie e soprattutto per Giovanni Boniberti che è stato il nostro ospite di questa sera grazie Giovanni grazie a molte ancora della tua chiarezza a presto e al prossimo evento da fare insieme vedremo se sarà in una sala o sarà su una piattaforma webinar come in questo caso grazie a tutto il pubblico grazie a Giovanni Boniberti e arrivederci alle prossime iniziative di Investors Magazine Italia di Traders Magazine Italia e dell'Istituto Svizzero della Borsa il sito raccomandazione di Borsa che è una delle iniziative di Istituto Svizzero della Borsa vi dà appuntamento precisamente a giovedì mattina ma trovate come al solito le informazioni sul nostro sito arrivederci a tutti grazie ancora Giovanni della tua partecipazione grazie mille arrivederci a tutti